Ora, questo è l'operaio più importante di tutta la catena e addetto al controllo qualità. Bene, bene, topo, bene, topo, ratto, bene, siringa, bene, naso, bene. Mi lasci dire, lei sta facendo un ottimo lavoro, Phil. Ehi, grazie mille, questo sì che ti dà una ragione di vita. Mmm, birra gommosa. Ehi, Bonnie, credo che ne hai avuto abbastanza. Ma sei impazzito? Non abbiamo ancora provato la Duff Lampone, la Lady Duff, la Duff Antitartalo. Bonnie, dammi le chiavi, sei troppo sbronzo per guidare. Da benissimo. Accordo, non mi dai altra alternativa che... E questo per cos'è? Sto cercando di metterti i cappi. Dacci un taglio. E va bene, ecco le chiavi. Sciatate, ma voglio un paio di spugne imbevute e si dirigono verso di voi. Oh, porca... W, X, Y, Z. Ora so bene tutto quanto l'alfabeto, come son contento, come sono lieto. È regolero. È bravo, ma avremmo anche accettato quante belle figlie, madama Teresa. Direi che lei è libera. Vategli il test dell'alito! Sei in arresto. Riporti a casa questa macchina. Puoi dirlo forte, birra gigante. Mamma mia, mamma da... Ehi, ora è divertente, eh? Ecco, ma voglio niente!